Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un agente di polizia penitenziaria del carcere di Sulmona è ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Peligno dopo essere stato aggredito ieri mattina da un ergastolano con dell'olio bollente. L'uomo, un 47enne originario di Vasto, presenta ustioni di primo e secondo grado sul viso e sul corpo. Abbiamo superato il limite, ora l'amministrazione penitenziaria deve intervenire, ancora prima di essa il ministro Bonafede che ha in mano la responsabilità politica della gestione carceraria, commenta il sindacalista di categoria Mauro Nardella. Gli ospedali psichiatrici e giudiziari, prosegue, sono stati chiusi troppo frettolosamente e senza alternative valide. All'origine del gesto, infatti, non ci sarebbero fatti personali tra i due, tanto più che l'agente era rientrato proprio ieri nel carcere di Sulmona dopo un periodo di comando in quello di Lanciano. Quest'incontro segna un nuovo inizio per un grande progetto su cui sono pronto a impegnarmi in prima persona sui tavoli politici nazionali e già oggi, nella seduta della conferenza delle regioni, riproporrò di aprire un confronto su questo tema. Lo ha detto il presidente della giunta regionale abruzzese, D'Alfonso, nel convegno verso le macro-regioni a chi spetta la prima mossa, che si è svolto ieri mattina nell'aula consigliare del Comune di Pescara. Hanno partecipato, tra gli altri, il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e docente alla School of Government della LUIS di Roma, il sostituto procuratore generale della Corte dei Conti, Erika Guerri, e la vicepresidente della regione, Marche, Anna Casini. Il confine inteso come l'IMES, appuntualizzato da Alfonso, è ormai superato e infatti già molti enti, come provveditorati alle opere pubbliche, Enel, Anas, sono strutturati in termini macro-regionalistici. Per questo il territorio merita di essere riorganizzato, superando l'egoismo del particolarismo. Un nuovo esposto è stato depositato la scorsa settimana presso la Procura della Repubblica di Teramo sulla questione della sicurezza del sistema Gran Sasso, dai laboratori alle captazioni passando per i tunnel. È l'ennesima corposa segnalazione alle autorità inquirenti sulla vicenda, a partire da quella depositata nell'aprile 2017, che ha portato all'apertura di una prima inchiesta da parte della Procura Teramana. Questa volta, in 15 pagine, sono state affrontate numerose tematiche sulla base della grande mole di documentazione, migliaia di pagine visionata presso una decina di enti in un enorme lavoro di accesso agli atti. Sabato mattina è previsto un sit-in a Pescara per reclamare l'approvazione della Carta delle aree di salvaguardia per l'acqua potabile. Regione omissiva dal 2006. Tutto questo lo fa sapere il Forum H2O. Intanto si è appresa dell'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, in relazione alla vicenda del inquinamento nella zona di Fosso Vallelunga con i relativi problemi per le acque e per la loro balneabilità, che però al momento, lo ricordiamo, in base ai dati ARTA, è assicurata nel senso che la balneazione in quella località è permessa. Ieri si è svolto il Consiglio Generale della Federazione dei Pensionati della CISL Abruzzo Molise, che ha eletto Mario Gatti segretario generale. Alla riunione, che ha sancito la sua elezione alla guida della FNP CISL Abruzzo Molise, erano presenti Leo Malandra, segretario generale della CISL Abruzzo Molise, Patrizia Volponi, segretaria nazionale e reggente della Federazione, e Marco Maurizio Colombo, segretario nazionale organizzativo. Il nuovo segretario della FNP CISL Abruzzo Molise, di origine vezzanese, è nato nel 1950 ed ha iniziato a lavorare nel 1972 in Ferrovie dello Stato per poi diventare un quadro in Trenitalia. Nella sua esperienza lavorativa all'interno dell'azienda, Gatti si è occupato di sicurezza. Mario Gatti, sin da subito, si è iscritto alla Federazione CISL Trasporti e negli anni Ottanta è iniziato il suo impegno sindacale. Si chiude l'iter per l'adesione alla zona franca urbana, ufficializzate le 689 imprese che sono state ricomprese a Pescara nella misura che riconosce benefici fiscali alle attività vecchie e nuove che ricadono nel perimetro che identifica la zona franca urbana. Ieri si è svolta la presentazione con il sindaco Alessandrini, l'assessore alla zona franca urbana Di Carlo, la CNA, Confesercenti, Confcommercio, uno dei tecnici del pool che ha assistito con l'assessorato I Richiedenti e tutte le associazioni di categoria, società e denti, che hanno collaborato per raggiungere tale risultato. Ed è operativo a Pescara un nuovo sportello per gli immigrati extracomunitari in Piazza Italia, 13 al piano terra del Palazzo Ex-Inps. Il servizio è stato predisposto dal Comune di Pescara nell'ambito del progetto che lo vede quale ente attuatore dell'azione 2 del piano di intervento regionale previsto dal FAMI, il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Obiettivo dello sportello, aperto da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, accogliere i migranti, fornire indicazioni sui servizi messi a disposizione dal Comune e raccogliere allo stesso tempo informazioni di carattere bio-psico-sociale per rilevare bisogni e percorsi di inclusione. A partire da lunedì 25 giugno entreranno in funzione i quattro nuovi fotored installati su due incroci semaforici. Si tratta di Via Vestina all'altezza con Via Cavallotti e Via Chiarini nell'intersezione con Via Terno. Lo annuncia il tenente della polizia locale, Nicolino Casale. Dopo la sperimentazione effettuata con il primo impianto di rilevamento installato a Montesilvano-Soccorso Umberto all'incrocio con Via Adige e Via Silvino di Giovanni, abbiamo reputato opportuno, per migliorare la sicurezza nella viabilità del nostro territorio, attivare anche questi due nuovi impianti. Gli incroci individuati a Montesilvano sono infatti punti particolarmente sensibili nel contesto di mobilità urbana. È molto importante rispettare le norme del codice della strada e tali impianti rappresentano sicuramente un maggiore deterrente nei confronti di questi automobilisti indisciplinati che passano con il rosso mettendo a repentaglio la propria incolumità o quella degli altri. Non a caso, nell'incrocio con Via Adige, le infrazioni rilevate dal sistema si sono ridotte dalle 600 al giorno dei primi tempi alle attuali 20 circa. Il modus operandi del comune di Montesilvano sta facendo proselitismo tra i comuni vicini. Le telecamere installate con le motivazioni legate alla sicurezza de facto sono un formidabile strumento per fare cassa. E allora, dopo quelli killer fra Corso Umberto, Via Adige e Via Di Giovanni, ora quelle su Via Chiarini e Via Vestina e altri seguiranno. E' ora di dire basta, lo afferma Donato Fioriti, presidente dell'Associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo insieme a Mario Di Giacomo, presidente della sezione di Montesilvano. Vogliamo chiarire, spiegano Fioriti e Di Giacomo, che noi siamo dalla parte del comune quando si attiva per la sicurezza e dalla parte dei cittadini rispettosi del codice della strada e delle regole. Ma Montesilvano si agisce in modo monotematico, sostengono Fioriti e Di Giacomo. Ad esempio, dicono, perché non viene posta applicazione alla temporizzazione semaforica con il conto alla rovescia dei secondi fino a giungere al rosso, anche da noi proposto e approvato in Consiglio Comunale. Oggi è giovedì 21 giugno e la Chiesa celebra la memoria di San Luigi Gonzaga, religioso. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno con temperature da 23 a 29 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, sereno in tarda mattinata e nelle ore centrali, molto nuvoloso nel pomeriggio, sereno nelle prime ore della sera e poco nuvoloso in tarda serata con temperature da 22 a 27 gradi e venti deboli a moderati. Il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, da Tascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.